Dottoressa Menabue, perché la scelta del provveditorato dell'USP di Modena di ridurre le sezioni in alcuni istituti comprensivi a fronte chiaramente del calo demografico che si sta verificando per l'annata 2010? Guardi, le dico con estrema sofferenza, non è stata una scelta, è stato un atto dovuto. Al nostro territorio, come è accaduto su tutto il territorio nazionale, è stato confermato lo stesso organico di diritto dello scorso anno. Questo organico, quindi, riconfermato negli stessi numeri dell'anno scolastico precedente, deve rispondere ad una popolazione scolastica che è complessivamente in calo di 500 alunni, ma che registra, in realtà, al proprio interno un effettivo calo di 1.400 alunni sulla scuola del primo ciclo ed un incremento di 900 alunni sulla scuola del secondo ciclo. Quindi noi, con le stesse dotazioni organiche dello scorso anno, dobbiamo garantire classi per 900 alunni in più nella scuola secondaria di secondo grado, registrando un calo di 1.400 alunni nella scuola del primo grado, per un saldo ribadisco complessivo comunque negativo di 500 alunni. Quindi, garantire classi per 900 alunni in più sulla scuola secondaria di secondo grado con lo stesso contingente complessivo dell'anno scorso, ha comportato necessariamente in una logica compensativa un taglio di posti laddove gli alunni sono in calo per 1.500. 1.500 alunni del primo ciclo sono in calo perché è in cala l'infanzia, l'infanzia cala di circa 300-400 alunni, è in calo la primaria, la primaria cala di quasi 900 alunni ed è in calo di circa 200 alunni anche la scuola del primo grado, la scuola media. Quindi questo significa che l'atto compensativo è stato necessario, non è stata una scelta discrezionale, per dare classi, autorizzare classi per i 900 alunni della scuola secondaria di secondo grado, mantenendo complessivamente lo stesso organico io ho dovuto necessariamente reperire risorse nel primo ciclo, nella primaria dove ci sono 900 alunni di meno, sono gli stessi alunni di meno e di più, 900 in più nella scuola secondaria di secondo grado, 900 di meno nella scuola primaria, ma ce ne sono anche 400 di meno nell'infanzia, 200 di meno nel primo grado. Quindi è un atto dovuto, non è una scelta discrezionale. Quello che voglio ribadire è che questo organico è assolutamente indipendente, come ben sanno gli operatori della scuola e anche le organizzazioni sindacali, è assolutamente indipendente dalla pandemia, dall'evento epidemiologico, è assolutamente indipendente dal patto per la scuola siglato dal ministro Bianchi. è un organico che nasce molto prima di tutto questo e viene di anno in anno riconfermato, alla luce del DPR 81 del 2009. Quindi ciò che noi abbiamo dato alle scuole l'anno passato è il frutto di un imponente organico aggiuntivo, per cui sono stati stanziati più di 2 miliardi di euro per l'organico aggiuntivo, il personale Covid. Tutte le scuole hanno una dotazione importante di personale Covid in questo momento, anche il comprensivo Ferraris ha più di 7 posti solo nella scuola media di organico Covid. Quindi noi attendiamo questo nuovo organico per poter autorizzare queste classi. Questa è solo la prima fase, l'organico di diritto. Quest'anno, come l'anno scorso, non risponde alla pandemia, non risponde al patto per la scuola che è ovviamente avvenuto molto dopo. Questo è un organico che nasce appunto dal DPR del 2009, il patto per la scuola è di maggio, di molto successivo. Quindi noi attendiamo un'ulteriore dotazione organica che ci permetta quest'anno, come è successo l'anno passato, di intervenire e quindi di autorizzare i classi con un numero più basso di alunni, di permettere il distanziamento, l'attività didattica per moduli, tutto quello che è stato fatto l'anno passato con una dotazione aggiuntiva, con un imponente sforzo di personale. E stiamo attendendo questo. Ma quindi allora ci sarà la possibilità, che ci sia la riconferma di questo organico in più, e quindi la possibilità che quello che sta invece, che sta per accadere, venga in realtà annullato? Ma certo, come l'anno scorso, anche quest'anno, l'organico si articola su fasi diverse. Questo è l'organico di diritto, poi ci sarà un organico di fatto. Non sappiamo se l'organico Covid verrà autorizzato nelle stesse modalità dell'anno passato, cioè con un'autorizzazione di impegno di spesa per le scuole o con posti aggiuntivi. Siamo ancora in attesa di ricevere indicazioni in questo senso. Ma le scuole di certo, oltre all'organico di diritto, riceveranno un organico di fatto. Quindi una fase successiva ci sarà, c'è sempre stata, i dirigenti lo sanno bene. Le tempistiche di questa fase successiva? L'organico di fatto mediamente, anche negli anni passati, si riceve tra giugno, fine giugno, primi luglio, insomma qualche settimana ancora servirà. Quindi entro l'estate la situazione potrebbe in qualche modo cambiare? Assolutamente sì, anche perché il nostro Ministero di Concerto col Ministero della Salute sta ovviamente monitorando la situazione pandemica, perché molto dipenderà anche dalle condizioni epidemiologiche per il prossimo settembre, certo.